Ancora 10 secondi perché Trento provi a costruire un tiro, ci prova con Flaccadori, canestro! Passaggio di ribaltamento ben letto da Christian Borsa, cancellato da Beto! In allontanamento Riccardo Moraschini che ha carica di fondo! Il tiro con Figlioi, Forraigo attacca e tende una palla per JJ! Non attacca Belaschini, tornando da Croft! Ma che scarico ha fatto! 5 secondi sull'orologio dei 24, si arresta nel cuore dell'area il canestro della Pantera dell'Ohio! 4 secondi sull'orologio di famobla Were Buschini! Grazie a tutti